Musica Ma a gusti modi e brici da tazze che fei parite, sotto tenito il zucchero in coppa maracite, ma è tanto cacciaputa e tanto cacciacirà, con doce sotto la tazza fino a molto ma d'arrivo. Più il tempo passa e più verrà freddato, invece per riscaldare il caffè squisito, o belle casi pure per gelato, si dà delizia del caffè granito, facendo concorrenza limonata. Ma a gusti modi e brici da tazze che fei parite, sotto tenito il zucchero in coppa maracite, ma è tanto cacciaputa e tanto cacciacirà, con doce sotto la tazza fino a molto ma d'arrivo. Poi si da mamma del repassatore, e in bellezza mia figlia è per far, si muove divertita a cagnocore, i facce e carte fei senza l'arrivo. Bella parella fossimo affamore. Ma è tanto cacciaputa e tanto cacciacirà, con doce sotto la tazza fino a molto ma d'arrivo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.